chi ha detto che cavalli non possono suonare gli strumenti sapphire il cavallo che vediamo nel video lo conferma anzi si dimostra un virtuoso quando si tratta di suonare il pianoporte non avendo mani o dita lui si ingegna e il risultato è un bel brano suonato utilizzando solo le labbra